Ci troviamo a Taranto, nel centro di Taranto, nella centralissima via Mazzini e vedete alle mie spalle un quadro che ormai da decenni fa brutta mostra di sé. Un palazzo privato che vedete è transennato, è inagibile, si mantiene in piedi grazie ai puntelli di ferro giù, di metallo giù, di ferro e poi dei puntelli di legno che fanno da contraforte rispetto ai balconi pericolanti. Una situazione incredibile e se non la vedessimo con i nostri occhi non ci crederemmo. Da decenni, dicevo, questo quadro è sempre il medesimo. Mi domando a questo punto perché l'amministrazione comunale non intervenga presso i proprietari o meglio, sicuramente sarà intervenuta però evidentemente con esiti pressoché nulli. A questo punto la soluzione è presto detta. Si procede con la cosiddetta ordinanza in danno, ossia l'amministrazione comunale a proprie spese ripristina lo stato delle cose, lo stato dei luoghi e poi si rivale sui legittimi proprietari. Ora, ditemi voi di grazia, ma è possibile che nel centro di Taranto si possa assistere a questo scempio? Da decenni, cioè si sono succedute le varie amministrazioni di centro-destra, di centro-sinistra e il quadro è sempre il medesimo. Guardate, qui stiamo nel centro di Taranto, non in una periferia, non in un borgo antico decadente, in un borgo antico che ha centinaia e centinaia di anni alle sue spalle. Purtroppo, evidentemente, lo ripeto, a Taranto non esiste neanche una classe imprenditoriale che sia in grado di investire, perché poi un imprenditore illuminato, sapendo che ci troviamo nel centro di Taranto, investe, acquista l'immobile, lo ripristina, lo rivende, lo fitta, ma evidentemente forse, questo va anche detto, uno stato di squallore complessivo come dire, frena, allontana l'imprenditore da questi slanci. Ma questa è una valutazione all'attere. Sta di fatto che l'amministrazione deve intervenire. Non è possibile che un palazzo giaccia così, transennato, picchettato, da decidi e decidi di anni. Guardate, sembrano così immagini da paese medio orientale bombardato, da paesi del terzo mondo, stiamo a Taranto e lo ribadiamo. Tenete presente che il turismo in queste condizioni mai e poi mai potrà rilanciarsi, perché il turista viene a Taranto, si fa un giro e dice dove sono andato a finire. Io mi appello all'amministrazione comunale, alla Giunta, affinché si prenda a cuore questa realtà e non si decide, non si faccia sempre la solita promessa del marinaio, poi vedremo, poi faremo, stiamo studiando le carte. Sono vent'anni che stiamo studiando le carte. E il palazzo poi diventa ancora più precario, perché non credete, non dovete minimamente credere che il palazzo rimane così statico e fermo, perché ovviamente si logora, ovviamente c'è l'usura e il marciume che c'era dieci anni fa, oggi è peggiorato, si è ancora di più incancrenita la situazione, fino a quando poi, un bel dì, vedremo che il palazzo è completamente collassato. Dobbiamo aspettare questo? Dobbiamo aspettare che il palazzo crolli con l'assi e che magari qualche povero disgraziato che si trova nelle vicinanze venga travolto dalle macerie e si trovi sotto le macerie? Decidete voi, signori amministratori, decidete.